L'ultimo compleanno festeggiato qui compiva 80 anni Lucia. Il pranzo con amici e parenti l'aveva organizzato il marito, il ragazzo per amore del quale lei andò via da Canosa appena quindicenne, giovanissima parrucchiera. Ora che non c'è più, la signora Lagrasta, moglie di Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagheria, vive nei ricordi di chi l'ha conosciuta e amata. Lucia ha fatto il menù, Lino anche, ed è stato un bel momento. Ricordare Lucia nel momento in cui era sorridente, sì la malattia c'era, però era ancora la nostra Lucia. Sempre dietro le quinte del marito diventato famoso dopo anni di sacrifici, come ha sempre raccontato, ma in prima fila, donna umile e riservata, soprattutto premurosa. Sempre premurosa nei confronti di Lino, spesso vedevo che Lino, quando lui tentava di riprendersi un'altra cosa nel piatto, tirava sempre il braccio per dire l'hai già mangiata e lui faceva così con la testa, però sorridevano sempre su questa cosa qua. Da Canosa mancava da un paio d'anni, da quando cioè le sue condizioni di salute erano peggiorate. Antonella, l'amica della figlia Rosanna, ricorda il suo smisurato amore per gli animali. Lei amava tantissimo gli animali, ne ha cresciuti tantissimi, ne ha salvati tantissimi perché loro non acquistavano animali, li salvavano e ne ha avuti tanti, tanti, tanti e li adorava. E poi il suo sogno era proprio quello di creare un cimitero per gli animali a Roma.